Abbiamo chiesto il rinvio di intesa col Ministero perché ancora non vi è la definizione definitiva, seppur in Commissione è stato trovato quasi all'unanimità, credo tranne una regione e una provincia autonoma, un documento che chiede lo stralcio dell'abbattimento e fa un'ulteriore serie di proposte. Ci sarà l'incontro nei prossimi giorni, ma avete capito che l'orientamento delle regioni è quasi all'unanimità su quella strada.